Abbiamo fatto una cosa veramente da pazzi e adesso vi voglio spiegare tutto quanto per filo e per segno, passaggio dopo passaggio. Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio in cui parliamo di Stefan De Frey. De Frey che potrebbe lasciare l'Inter al termine di questa stagione, una partenza che sembra probabile, ma ancora non scontata. Quindi attenzione a dare per scontato l'addio di De Frey, scadenza di contratto nel 2023, la prossima potrebbe essere l'ultima estate buona per monetizzare al meglio la sua cessione. Inevitabilmente dovesse partire l'Inter con l'addio di De Frey, perderebbe un titolarissimo, ma anche uno dei migliori difensori del campionato e non solo. Nonostante in questa stagione, purtroppo lo sappiamo, è incappato in alcuni errori anche importanti, anche alcuni episodi negativi. Il valore di De Frey però, ragazzi, penso che siamo tutti d'accordo, non si discute e quindi se dovesse effettivamente partire l'Inter chiaramente non può sostituire De Frey con il primo calciatore che passa. Bisogna individuare un profilo serio. Ci abbiamo provato noi di Passione Inter a sostituirci a Marotta ed Ausilio, abbiamo provato a individuare quale potrebbe essere il miglior difensore con cui l'Inter potrebbe sostituire De Frey qualora dovesse partire, ma non l'abbiamo fatto sulla base di opinioni, sensazioni personali e quindi questioni molto soggettive. No, abbiamo deciso di intraprendere un approccio molto analitico, siamo andati a studiarci tutti i migliori difensori in circolazione di fatto, anche e soprattutto quelli meno conosciuti, per arrivare poi al colpo perfetto. Vi chiedo di seguirmi con grande attenzione all'interno di tutto il nostro ragionamento che abbiamo fatto, perché vi porterò alla fine anche delle considerazioni molto interessanti, molto a sorpresa secondo me, ma c'è bisogno di ascoltare ogni singolo passaggio per capire bene come siamo arrivati a quelle conclusioni e poi confrontarci sulla base di questo. Allora, prima di tutto la prima selezione che abbiamo fatto non è che abbiamo valutato tutti i singoli difensori ovviamente in giro per l'Europa, abbiamo fatto una serie di selezioni a partire da una prima ovviamente molto importante, cioè siamo andati a prendere solo dei calciatori in linea anche con i parametri di spesa che l'Inter di oggi può permettersi. Quindi siamo partiti da calciatori in scadenza di contratto che potrebbero arrivare a parametro zero, fino ad arrivare a dei calciatori che hanno un valore massimo, un costo del cartellino massimo, non superiore ai 30 milioni di euro, comunque non di troppo superiore ai 30 milioni di euro, che sembra essere un po' il tipo di budget che l'Inter vorrebbe spendere per il nuovo difensore dovesse appunto partire da frai. Dopo la prima selezione abbiamo effettuato un taglio importante, eliminando tutti quei nomi che per vari motivi erano veramente improbabili, o perché impegnati in campionati poco competitivi e quindi sarebbe stato da un lato un azzardo, dall'altro le statistiche poco veritiere se confrontate a giocatori che magari giocano in Serie A, in Bundesliga, in Premier League eccetera eccetera, oppure abbiamo tagliato calciatori troppo in là con gli anni, troppo anziani tra virgolette o con situazioni contrattuali particolari. Fatto questo taglio dalla prima super lista che abbiamo avuto, abbiamo diviso poi i profili scelti in tre fasce, dai parametri zero ad un valore di 10 milioni, una seconda fascia dai 11 ai circa 20 milioni, e una terza fascia dai 21 milioni in su, poco sopra i 30 milioni. Questa era la terza fascia. Le nostre fasce poi magari le trovate su passioninter.com, dove trovate l'articolo con i vari tagli e qualche informazione aggiuntiva, sulla quale adesso non mi soffermo, vi lascio il link in descrizione. Da qui siamo andati avanti con un ulteriore taglio, ovvero sulla base delle presenze. Perché le presenze secondo me sono molto importanti da questo punto di vista? Perché Defrae nelle ultime due stagioni, tra l'altro la seconda non ancora conclusa, ha giocato con la maglia dell'Inter ben 73 partite, ed è un numero veramente molto molto alto. Quindi ho deciso di tagliare tutti quei calciatori che avevano meno di 45 presenze, perché vorrebbe dire che se hai meno di 45 presenze, di fatto Defrae ha giocato un campionato in più rispetto a te. Le statistiche da un lato ne risentono, dall'altro lato uno dei punti nettamente a favore di Defrae ha anche la grande costanza, l'affidabilità sia in termini fisici che di rendimento, che lo ha portato a giocare così tante partite. Quindi se devi sostituirlo devi garantirmi anche questo. Da qui quindi siamo passati alle statistiche, alle caratteristiche dei giocatori, siamo andati a vedere quali profili possono assomigliare o addirittura essere più forti di Defrae, rispettando una serie di parametri che ho diviso in due categorie. Quelli più relativi al difensore puro, le statistiche più relative proprio al ruolo del difensore puro, e quelle più legate invece alla creazione dal basso, alla costruzione del gioco e quindi anche alla tecnica del calciatore. due aspetti in cui Defrae sicuramente eccelle e quindi abbiamo cercato profili che gli potessero assomigliare sotto tutti i punti di vista. Abbiamo considerato tante statistiche, non vi sto a fare qui magari l'elenco, ve ne dico solo alcune, per esempio dal lato più difensivo ci sono le respinte, i passaggi intercettati, i contrasti vinti, i duelli aerei, i contrasti, i dribbling subiti a partita e tutta una lunga serie di dati. Mentre per le statistiche più offensive abbiamo considerato passaggi tentati, percentuale di completamento dei passaggi, passaggi chiave, palloni toccati, golle assist e non solo. Tutti questi dati li abbiamo presi per due stagioni, la 2021-2022 e la 2020-2021. Scusate. Perché abbiamo fatto su due stagioni? Perché innanzitutto su due anni hai quindi un numero di dati più significativo, più importante, puoi capire se questo giocatore è più costante oppure se è in un trend di crescita o invece in calo. Quindi abbiamo fatto un'ulteriore aggiunta per arrivare poi a dei profili sempre più ottimali e sempre più perfetti, diciamo così. Alle nostre valutazioni abbiamo aggiunto poi un peso specifico anche ad altri fattori che consideriamo molto importanti e che vanno sicuramente tenuti in considerazione oltre ai semplici dati nudi e crudi, nero su bianco. Abbiamo deciso di aggiungere come fattori importanti da tenere in considerazione anche la carta di identità del giocatore, quindi età, squadra d'appartenenza e non solo, il modulo ed il ruolo esatto in cui gioca perché ci sono ovviamente giocatori che fanno oltre al difensore anche il mediano oppure giocano in una difesa 4, in una difesa 3, fanno anche l'esterno, quindi anche il ruolo esatto ed il modulo hanno avuto un peso nelle nostre valutazioni alla ricerca dell'erede perfetto e del sostituto perfetto di Defray, abbiamo valutato lo stile di gioco delle singole squadre a cui appartengono questi calciatori e quindi abbiamo valutato anche il livello del campionato in cui questo calciatore gioca perché è un conto avere determinate statistiche in Serie A, un conto avere determinate statistiche nella seconda divisione tedesca, per farvi un esempio. Fatta quindi tutta questa serie di considerazioni e di premesse, siamo andati a completare la nostra ricerca, siamo andati a prendere i dati. Nella prima fascia, quella dai calciatori a parametro zero fino ad un valore massimo di 10 milioni, abbiamo veramente controllato ogni singolo dato per ogni singolo calciatore perché alla fine di tutti i nostri tagli di nomi credibili ne erano rimasti pochi, diciamo così, o comunque non un numero eccessivo. Nella seconda fascia invece, quella che va da 11 a 20 milioni, c'erano veramente molti nomi molto interessanti e quindi diventava un po' troppo dispersivo andare a prendere tutti i singoli dati per ogni singolo calciatore, quindi abbiamo deciso di fare un'altra serie di tagli per arrivare a prendere il giocatore giusto. Cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo individuato quelli che secondo noi erano i sei punti più interessanti all'interno di tutte le statistiche prese e abbiamo definito quindi sei statistiche che potessero disegnarci il profilo di Defray e quindi poi confrontarlo con chi dovrebbe sostituirlo sulla base di queste sei statistiche che sono i recuperi a partita, i salvataggi a partita, i palloni toccati, i contrasti vinti, le respinte e la precisione in percentuale dei passaggi effettuati. Sono caratteristiche molto diverse perché alcune riguardano l'aspetto più difensivo, alcune riguardano l'impostazione, sempre per mantenere questo equilibrio. Quindi Defray, vi dico subito, non eccelli in maniera clamorosa se non nella percentuale dei passaggi riusciti dove è veramente tra i migliori in assoluto in circolazione, ma la cosa molto interessante è che andando a guardare tutti questi dati di Defray si vede come sia un giocatore bravo in tante cose diverse e quindi spicca soprattutto per la sua solidità, l'omogeneità del suo valore in tanti aspetti, la completezza e quindi soprattutto l'affidabilità. Per cui dovendo cercare il nuovo Defray siamo andati su chi aveva numeri simili o superiori a lui in questi dati. Fatta questa scrematura eravamo arrivati quindi ad un numero più ristretto sicuramente di difensori, ma abbiamo deciso di andare ancora più in profondità, di renderla ancora più difficile, ovvero abbiamo fatto un altro taglio sulla base di due dati sui quali invece Defray eccelle a livello europeo in maniera assoluta, ovvero la palla al piede progressiva che dimostra anche un po' il coraggio palla al piede del giocatore anche a livello di impostazione e del rischio che si prende magari tra virgolette nell'impostare e i duelli aerei vinti, sempre per avere uno dal punto di vista difensivo e uno più dal punto di vista delle impostazioni. Due statistiche, due caratteristiche molto differenti dove però Defray ha dei numeri molto molto alti anche a livello europeo e quindi ci sembrava un'altra soglia di sbarramento interessante per poter arrivare al candidato perfetto. In seguito abbiamo fatto uno degli ultimissimi tagli, ovvero siamo andati a togliere quei calciatori che si stanno specializzando più da braccetto di sinistra o più da difensore esterno-sinistro alla Bastoni per un motivo che vi spiegherò poi invece alla fine. Siamo arrivati quindi qui ad una cerchia ristretta di nomi in cui la lotta è stata molto molto serrata e abbiamo individuato il nome anche per la seconda fascia. Nella terza fascia abbiamo fatto lo stesso identico procedimento della fascia 2 e devo dire che anche nella fascia 3 è stata veramente molto dura perché di calciatori interessanti ce ne erano veramente tantissimi, però alla fine come profilo perfetto dovevamo prenderne uno e quindi siamo arrivati alla conclusione della nostra analisi e vi vado a dare quindi i risultati della nostra analisi e delle nostre ricerche non senza tagli anche dolorosi da fare diciamo così. Nella fascia 1 quindi da 0 dai parametri 0 ai calciatori con un valore massimo di 10 milioni siamo arrivati a selezionare Mattias Ginter come profilo più interessante. Classe 94 in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach ha un valore di mercato secondo Transfer Market di 24 milioni ma come detto è a parametro 0 1,91 difensore centrale gioca in una difesa 3 tra la fase centrale e soprattutto anche il braccetto di destra sul centro-destra ha una lunghissima esperienza anche con la nazionale tedesca dove ha debuttato addirittura nel 2014 è stato anche nella spedizione che ha vinto il mondiale c'è anche sui nostri canali un approfondimento specifico su Ginter di cui abbiamo già parlato per quanto riguarda invece la fascia 2 abbiamo puntato alla fine di tutta la nostra analisi su un giocatore che probabilmente conoscete bene ovvero Nicola Milenkovic della Fiorentina 1,95 m classe 97 24 anni ne farà 25 al termine ad ottobre quest'anno nazionale serbo e TransferMarket gli assegna un valore di mercato di 23 milioni di euro ma in realtà sappiamo che essendo in scadenza di contratto nel 2023 potrebbe partire per una cifra attorno ai 15 milioni si è parlato di questa valutazione con un ingaggio tra l'altro non altissimo non ricordo se ve l'ho detto su Ginter prima comunque un classe 94 28 anni Milenkovic invece classe 97 24 anni per quanto riguarda infine anzi sulla fascia 2 perdonatemi prima di dimenticarvi volevo segnalarvi una cosa molto interessante perché fuori Milenkovic ha vinto una lotta molto molto serrata con tanti altri candidati molto interessanti c'erano da Simacan dell'Ipsia Lienhard del Friburgo però a sorpresa c'era un giocatore che aveva dei dati molto molto importanti e che è rimasto fuori di pochissimo ed è Ferrari del Sassuolo Ferrari del Sassuolo che da due stagioni ha dei numeri veramente top ha avuto la peggio rispetto a Milenkovic ma solo di pochi centesimi perché penalizzato diciamo così dal fatto che gioca in un sistema diverso gioca in una difesa a quattro e soprattutto gioca sul centro-sinistra che è un fattore importante alla luce delle valutazioni che facciamo alla fine di questo episodio prima però vi faccio vedere la fascia numero tre dove a risultare vincitore in una lotta difficilissima c'erano veramente tanti calciatori molto interessanti nella fascia numero tre la spunta Jonathan Ta difensore tedesco classe 96 un metro e 95 del Bayer Leverkusen rinnovo di contratto da poco da pochi mesi con il Bayer Leverkusen anche lui nel giro della nazionale tedesca dove per un po' è stato assente ma adesso è rientrato e la spunta lui con una valutazione di mercato attorno ai 25 milioni di euro in realtà io credo che se vai a trattare con il Bayer Leverkusen sarà un po' più alta ed è un profilo molto molto interessante che vince quindi nella fascia numero tre all'interno della nostra ricerca sono questi tre nomi che vi ho fatto quindi Ginter Jonathan Ta e Milenkovic tutti e tre profili solidissimi non hanno avuto particolari infortuni se non addirittura zero infortuni o quasi negli ultimi due anni soprattutto ma non solo molto forti fisicamente soprattutto Ta e Milenkovic ma che abbinano alla loro forza fisica anche una buona visione di gioco un buon piede e una buona impostazione del gioco su questo aspetto Ta e Ginter un po' più di Milenkovic molto probabilmente tra questi tre però dobbiamo pescarne uno dobbiamo prenderne uno solo e abbiamo fatto quindi il confronto finale analizzando tutte le singole statistiche che ci interessavano per questi tre calciatori e devo dirvi che alla fine di tutte le valutazioni che abbiamo fatto il giocatore che più somiglia a Stefan Defray secondo la nostra analisi e quindi il giocatore che ti fa pensare in maniera più naturale ad un fuori Defray dentro lui è Mattias Ginter il difensore quindi del Borussia Mönchengladbach è il risultato essere Ginter il giocatore più equilibrato tra tutti quelli che abbiamo analizzato con le caratteristiche più omogene in tanti punti diversi e ad un livello molto molto alto addirittura spesso superiore a quello di Defray non ha una specializzazione particolare e dei punti deboli molto molto carenti e quindi porta un'omogeneità molto importante molto in linea col profilo di Defray ci aggiunge ovviamente anche un'esperienza importante veramente da top in circolazione e a parametro zero è sicuramente un'opportunità molto molto interessante quindi il giocatore più simile a Stefan Defray e forse in alcuni punti anche superiore per quelli che sono i numeri e tutta l'analisi che abbiamo fatto è Mattias Ginter attenzione però ad un'ultima considerazione e poi vi lascio Bremer è un nome su cui l'Inter sta lavorando concretamente difensore del Torino brasiliano e seguendo diciamo il nostro ragionamento invece risulterebbe scartato tra i difensori anche della fascia tre quella più costosa quindi che significa significa che l'Inter andando a prendere Bremer sta sbagliando e dovrebbe prendere invece uno dei nomi che abbiamo suggerito noi può essere però c'è anche un'altra chiave di lettura possibile secondo me sulla quale voglio confrontarmi con voi ovvero se l'Inter deciderà di andare su Bremer che come identico sostituto di Defray invece sarebbe scartato secondo la nostra analisi potrebbe voler dire che si andrà a lavorare anche su qualche variazione di cui tra l'altro stiamo già vedendo dei primi segnali importanti quest'anno perché perché con Inzaghi ad esempio quest'anno il ruolo di Defray come regista in mezzo alla difesa è diventato meno cruciale anzi è molto cresciuto di più l'impiego di bastoni come regista a sinistra oltre ovviamente a Brosovic c'è un ruolo in mezzo al campo quindi avendo già l'ottimo bastoni per questo vi dicevo prima abbiamo scartato tutti quelli che stavano specializzandosi sul centro-sinistra soprattutto all'interno della nostra analisi perché l'Inter potrebbe pensare quindi o di far giocare il nuovo centrale che arriva con caratteristiche differenti al posto di Defray oppure far scalare Scrinier dal centro che sta facendo molto bene anche lì in mezzo e quindi pescare un terzo a destra a livello di probabilità quindi ci è sembrato più probabile che l'Inter possa andare su un giocatore da centro-destra che da centro-sinistra questa è la nostra analisi in definitiva comunque seppur Bremer sia stato sostanzialmente scartato all'interno della nostra analisi alla ricerca del nuovo Defray se l'Inter ha intenzione di cambiare strada a livello difensivo dopo l'olandese la scelta di Bremer sarebbe comunque molto molto sensata perché nei numeri e nei fatti è uno dei migliori difensori in circolazione in assoluto e non solo all'interno della fascia dei 30 milioni in tutte le statistiche puramente difensive è al top così come soprattutto nelle statistiche nella pericolosità offensiva nei gol e nelle occasioni create oggi è veramente uno dei migliori in assoluto il punto su cui magari al momento è un po' più distante a livello di numeri rispetto ai giocatori che abbiamo preso in considerazione è soprattutto nei palloni giocati nella precisione dei passaggi in diverse statistiche riguardanti il gioco del pallone è risultato essere un livello sotto rispetto ad altri ma come detto e questo lo abbiamo tenuto in considerazione nella nostra analisi un po' è dovuto anche sicuramente allo stile di gioco del Torino che inevitabilmente condiziona il rendimento del singolo o comunque va considerata anche un'altra cosa se l'Inter dovesse puntare su Bremer oltre alla possibilità che l'Inter cambi gioco proprio in funzione di Bremer c'è anche la possibilità che l'Inter faccia lavorare Bremer su questi aspetti in cui al momento magari deve ancora crescere considerando che ha 25 anni soltanto e quindi può ovviamente ancora crescere questo è il risultato della nostra lunghissima analisi e della nostra ricerca vi ho aggiunto anche delle considerazioni finali per darvi un quadro veramente il più completo possibile a 360 gradi fatemi sapere che cosa ne pensate qual è il vostro difensore preferito tra quelli che abbiamo menzionato se preferite magari la permanenza di DeFray io per esempio dovesse rimanere DeFray sicuramente non mi strapperei i capelli anzi vi chiedo di sapere vi chiedo di farmi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo format ci tengo perché ci abbiamo lavorato veramente tantissimo quindi se mi avete seguito fino a questo punto dell'episodio fatemelo sapere nei commenti facciamo con l'emoji del serpente la ritiriamo fuori dopo tanto tempo spero abbiate apprezzato il nostro lavoro che è stato molto lungo e anzi ne approfitto per ringraziare anche gli abbonati del club di Passione Inter perché senza il sostegno del club di Passione Inter non potremmo portarvi questo tipo di contenuti e di approfondimenti e soprattutto in particolare chi fa parte del club di Passione Inter oltre ai nostri abbonati ci eravamo confrontati in anteprima all'interno del club anche per ottimizzare la nostra ricerca quindi se anche voi volete sostenere il nostro progetto potete abbonarvi con il tastino abbonati ma se volete avere accesso anche alla nostra community esclusiva e quindi partecipare anche in anteprima agli approfondimenti a tutto il nostro lavoro potete abbonarvi ed entrare a far parte della nostra community su Passione Inter punto club io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto per avermi seguito